Guardiamo a te che sei, Maestro e Signore, in acqua aperta stai, ci mostri che lavorare, ci senti che amare e sentire. Ma che impariamo, Signore, da te, che il più grande è chi più sa servire, chi si abbassare presente a te, quando tutti insieme noi ci raduniamo. Grazie.